nuove anticipazioni per la puntata di questa sera di un posto al sole che cosa succederà ai nostri amati protagonisti scopriamo insieme le novità la sopa è da anni l'appuntamento imperdibile per milioni di italiani il racconto prosegue a gonfie vele regalando ai telespettatori scene e momenti emozionanti al centro del racconto gli abitanti del palazzo palladini di posillipo alle prese con le gioie e i dolori della vita quotidiana il segreto del successo di un posto al sole si nasconde con altissima probabilità dietro molteplici fattori dalla scelta del cast alla città che da sempre fa da cornice alle scene più belle ovvero napoli il cast cura nei minimi dettagli ogni interpretazione questo per non deludere mai le aspettative dei telespettatori un posto al sole anticipazioni stasera 13 maggio nelle puntate precedenti abbiamo assistito a molti colpi di scena che hanno regalato al pubblico attimi salienti e ricchi di adrenalina la relazione tra mariella e guido non smette di appassionare i fan la coppia è ormai sull'orlo del baratro e l'arrivo di claudia non sta facendo altro che peggiorare le cose rossella è finita in un brutto guaio mentre damiano continua a preoccupare tutti ida e roberto non riescono a trovare un punto in comune destabilizzando marina ormai esausta di questa situazione ma arriviamo al dunque cosa succederà nella puntata in onda questa sera 13 maggio scopriamolo insieme al centro delle dinamiche ci sarà proprio rossella la ragazza dopo il sequestro e lo spavento prenderà una decisione pensata e ragionata da tanto tempo nicotera le proverà tutte per scoprire chi si nasconde dietro il tentato omicidio di diana claudia continuerà ad infastidire mariella il suo rapporto con guido preoccupa la donna ormai disperata per la fine della sua relazione anche per silvia giancarlo e michele il clima sarà particolarmente teso le cose continueranno a cambiare notevolmente destabilizzando tutti come si metteranno le cose per i protagonisti della sop più amata di sempre tante sorprese e colpi di scena continueranno ad appassionare i telespettatori ormai dipendenti della storia e del cast quest'ultimo è diventato un punto di riferimento per i fan ormai abituati a seguire le storie dei vari protagonisti mancano poche settimane prima della pausa estiva da giugno molte soap e fiction si fermano ritornando dopo all'estate molte finiscono con il tempo per annoiare i telespettatori visti gli episodi e le storie ormai forzate un posto al sole resiste nel tempo il racconto non smette di coinvolgere il pubblico rivelandosi la serie di successo più seguita di sempre per non perdervi nemmeno un dettaglio l'appuntamento è stasera su rai 3 alle 20 50 50